Ciao a tutti gamers, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo su Super Mario Run, stiamo facendo il primo mondo, e quindi, guardate che ragazzi è bello, scusate se non l'ho preso, guardate che ragazzi è bello, e' lo scusate ne esono, come asciorte le nobisole, play, огромino! L'iraglio, buttate il дор會o, Chapel e qui, guardate cuori придi sp detail, ma sono più. E' la Giuseppe, sono molto a posto! il primo mondo è terminato era perché però io vi fai su Super Mario Run noi ragazzi ci vediamo e vabbè ragazzi ciao